Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone ospiterà mercoledì 31 dicembre 2014 la 35esima edizione del concerto di fine anno, realizzata in collaborazione con il Centro Iniziative Culturali Pordenone. Ad animare questo evento sarà l'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina di Kiev, diretta da Volodymyr Sheiko, un concerto imperdibile con anche il soprano solista Larissa Alice Wissell, per salutare festosamente il nuovo anno. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattarruzza. Siamo l'anno 2014 stavolgendo al termine ed è stato un anno difficile ma le iniziative presentate in città per questo Natale sono state estremamente effervescenti e molto frequentate. Il 31 dicembre ci sarà il tradizionale concerto di fine anno dell'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina di Kiev. In qualche modo darà l'inizio ai festeggiamenti di questo fine 2014. Alle 22 in piazza 20 settembre invece ci sarà il momento di festa con la piccola orchestra italiana a seguire la Maurizio Solieri Gang, cioè la band di Maurizio Solieri, gestorico chitarrista di Vasco Rossi, che ci accompagnerà e ci tagreterà tra il 2014 e il 2015. Un appuntamento importante per la nostra città e colgo l'occasione a nome di tutta l'amministrazione comunale per augurare a tutti i cittadini di Pordenone, a quanti vorranno condividere con noi questo momento di festa, i migliori auguri di una buona fine 2014 e un buon inizio di 2015.